Buonasera a tutti, elettore di Innspam. Siamo in questa cornice incantevole, ci troviamo nel Bremisino, siamo alla presenza di Marco Caporio, un air style Bremisino, è una rappresentante del gruppo Icona e Distribuzione. A te Chiara. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Oggi siamo qui in questa struttura bellissima a Brim di Sianotel Internazionale e grazie al nostro higher designer, lo possiamo chiamare Marco Caporio che è entrato a far parte della famiglia Icona e Distribuzione di Martina Franca come nuovo teacher e ha curato l'immagine di queste bellissime ragazze presentandoci la tendenza a sposa del 2017. Marco, qual è stata l'ispirazione innanzitutto per queste acconciature? Allora, mi sono ispirato ai fiori, alle onde, a tutto ciò che è la natura e quindi abbiamo dei capelli leggeri, fluidi, morbidi, sciolti al vento, abbiamo dei raccolpi impreziositi da gioieri con trecce che si intersegano formando dei fiori, eccetera eccetera. Le ragazze ci hanno messo del loro con la loro bellezza, i miei abiti e poi, che dire, il tutto, questa splendida cornice con le immagini mortavate dai nostri fotografi. Abbiamo un bravissimo gruppo di professionisti del Pi Greco di Fotostudio di Ceglie e come vedete ci sono tantissimi saloni al lavoro che operano adesso la loro manualità, quello che hanno imparato oggi su delle modelle e quindi il parrucchiere che crea l'outfit non solo per il giorno del matrimonio ma anche il giorno della cerimonia. Ricordiamo la preziosissima collaborazione di Veronica per conto di Greco Studio. Ricordiamo che Veronica vanta collaborazioni importantissime in campo internazionale, è stata l'artefice dei ritocchi del calendario Pirelli. Quindi per noi, insomma, una preziosissima collaborazione. Vogliamo salutare il lettore di Muspam. Ciao, arrivederci. Ciao Muspam!